Adesso potete shoppare nello shop di Fortnite con il supporto creatore, basta cliccare su un quadrato e aggiungere ovviamente Dario Chino TV nello shop. Fine, accetta. Ragazzi ricordatevi di aggiornarlo ogni 14 giorni, vedete, e mi aiutate e mi supportate anche senza fare niente, solo acquistando nello shop di Fortnite. Ciao a tutti e vi ricordo per chi è partecipato al contest di Instagram per arrivare a 1000 follower, basterà andare sul live su Twitch, lo dirò comunque nella prossima storia, vi aggiornerò e parteciperò al sorteggio di un pass battaglia o una skin. Ciao a tutti e grazie.